Un saluto a tutti coloro che stanno guardando questa clip da Emilia Sensale, sono qui per parlarvi di una nuova rubrica che potrete seguire prossimamente, una rubrica che tratterà tutto il territorio campano, Napoli e provincia soprattutto, e che affronterà temi delicati, inchieste, mondo della cronaca, approfondimenti sull'attualità. Esatto, veramente tardi, mi dispiace, per questo appuntamento d'altronde è molto importante per noi, è detto a loro che ci occuperemo di tematiche varie, dallo spettacolo, alla musica, dallo sport, alla cultura, insomma tutte le tematiche generali. Antonino Fiorino, ci occuperemo? Sì, la rubrica la faremo noi insieme. Perché? Perché non c'è Sensale senza Fiorino. Giusto, non c'è Sensale senza Fiorino. Giusto, non c'è Sensale senza Fiorino.